E' un'alterazione della mente che produce vuote di memoria, allucinazioni, ammese. Ogni fatto realmente accaduto viene ricordato, ma in modo distorto. Devo parlare con Alberto. Alberto chi? Alberto Sordi? Pronto? Pronto? Ma che cafone, ma l'hai tocato? Quando le dirà la verità? E' difficile da dire questa cosa. Ma sei qui! Devo trovare il momento giusto. Dopo tanti anni ci risentiamo. Eh sì, dici che non ricorderà più niente, si dimenticherà di tutto. Lei non ti ha dimenticato? Lei ti ha coinvolto nella sua rappresentazione. Hai una sigaretta? Fumo il sigaro. Fumo solo il sigaro. Scusa, vado a prendere la mia. A me ora, ora succede una cosa assurda. C'è nessuno? Io non distingo tra quello che sogno e quello che vivo. C'è nessuno? 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 Grazie a tutti.